Impreziosire le facciate di alcuni edifici del Centro Storico di Giaveno, in provincia di Torino, con affreschi che riproducono le litografie realizzate da Francesco Gonen per l'edizione quarantana, l'edizio Princeps, dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, pubblicata nel 1840. E quanto si propone il progetto Omaggio a Gonen, organizzato dall'Associazione Proprietari Immobili Centro Storico Onlus di Giaveno, illustrato a Palazzo Lascaris, alla presenza della Vice Presidente dell'Assemblea, Daniela Ruffino. Direi una giornata importante per il Piemonte, per i comuni che cercano sempre di più di trovare una notazione legata all'arte. Tutto questo farà sì che il Centro Storico Giavenese assuma grande importanza, valore e sicuramente un successo di visitatori. Da parte mia l'impegno a presentare all'Aggiunto un progetto per sostenere queste attività, queste opere, non soltanto su Giaveno ma sui territori del Piemonte. Ricordo territori che già hanno sperimentato quest'azione, come ad esempio Torre Canavese, con un successo di pubblico importante. Direi che questo è un modo per combattere la crisi e per lavorare con grande impegno su turismo, arte e cultura.